Non è più soltanto uno scoop del Corriere della Sera, è una notizia. L'Italia potrebbe partecipare ai bombardamenti delle postazioni ISIS in Iraq. Una ipotesi che molte cittadine, molti cittadini definiscono scellerata, noi siamo assolutamente d'accordo, che però effettivamente si sta valutando. La ministra della difesa Pinotti ha dichiarato dunque di valutare seriamente questa ipotesi, mentre il premier Renzi ha detto di volerla escludere categoricamente. La percezione che si ha è quella di una grande confusione, un po' come sta avvenendo in Europa, questa Europa che per l'ennesima volta ci ha dato dimostrazione di non avere una vera seria politica estera, perché se la Francia prende iniziativa e parte in quarta per bombardare e tutti gli altri restano a guardare, questo ovviamente ci preoccupa molto.